ciao a tutti da ggr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sulla di recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati oggi vedremo come utilizzare il focusrite isa 2 per la registrazione delle chitarre e del basso per prima cosa familiarizziamo con i controlli di impedenza quindi il selettore di impedenza che troviamo sul pannello frontale per poter meglio capire come funziona il nostro preamplificatore troviamo inoltre il pulsante per la phantom per poter quindi utilizzare i nostri microfoni a condensatore l'inversione di fase come vediamo e la possibilità di lavorare con un doppio controllo di gain che parte da 30 db o da 0 db per poter arrivare fino a 60 db di gain control in una ipotetica registrazione potremmo ad esempio utilizzare il controllo di gain che parte direttamente da 30 e regolare poi successivamente il trim per abbassare o salire di qualche db aggiuntivo ovviamente il tutto cercando di non mandare in clip il segnale in uscita dal nostro preamplificatore possiamo inoltre controllare il filtro passa alto per cui tagliare i bassi fino a 420 hertz utilissimo per alcuni strumenti che necessitano di questo tipo di taglio oppure per evitare che rumori di roll off o di interferenze sui bassi possano comunque entrare nel nostro microfono l'utilizzo del pulsante insert lo vedremo in un altro tutorial e serve per aggiungere un effetto direttamente nel canale del preamplificatore vedremo poi come utilizzare anche le connessioni send return che si trovano sulla parte posteriore del nostro pre prepariamoci alla registrazione di basso e chitarra selezioniamo gli ingressi instrument che troviamo sulla pannello anteriore e regoliamo il nostro pre lanciamo il nostro studio one e creiamo una prima traccia audio chiamiamola isa 2 per la registrazione del nostro basso inseriamo il jack nel ingresso 1 di instrument input regoliamo il nostro volume quindi abbassiamo leggermente il gain con il trim regoliamo la parte più potente diciamo del segnale cercando di non distorcere dalle librerie interne di studio one carichiamo un loop che ci servirà anche come click per poter eseguire la nostra parte duplichiamolo diverse volte spostiamolo su una traccia di ascolto facciamo in modo che appunto il nostro ascolto non sia troppo alto rispetto al segnale del basso che entra sempre all'interno di studio one e prepariamoci alla registrazione della nostra prima traccia di basso regoliamo il volume del pre amplificatore e iniziamo la registrazione una volta terminato spostiamolo sotto creando quindi una nuova traccia questa la chiameremo basso e la regoleremo di conseguenza adesso per poterci preparare alla registrazione delle tracce di chitarra questo caso una stratocaster il volume troppo alto rispetto ai pick up con il trim regoliamo l'ingresso evitando di farla andare in clip iniziamo la registrazione controlliamo anche che le note singole abbiano un volume adeguato apriamo il nostro guitar rig con un simulatore di amplificazione chiudiamolo e prepariamoci a registrare alziamo leggermente il gain perché suoneremo delle note singole spostiamo questa traccia su una nuova traccia e facciamone una seconda creiamo un'ultima traccia spostiamoci ed utilizziamo ora il less ball come notiamo il suono è ovviamente più grasso passiamo un po il gain e registriamo anche la parte di less ball spostiamoci su un'altra traccia e proviamo a messare il nostro risultato applichiamo un simulatore di basso al nostro basso in questo caso ampli tube spostiamo il volume spostiamo le tracce mettiamo un compressore multibanda sul master per evitare i clip della base dando un'occhiata al nostro preamplificatore possiamo notare che avendo i due ingressi potremmo ad esempio in una situazione live utilizzare l'ingresso 1 per la stratocaster l'ingresso 2 per il less ball mantenendo i due canali separati con due settaggi separati utilissimo appunto quando ci si trova live e non dobbiamo necessariamente cambiare il setup della chitarra quando cambiamo chitarra spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate di scrivervi lasciando poi i vostri commenti sotto ciao a presto ciao a presto ciao a presto ciao a presto